Grazie al PNRR e alla vittoria di quello che è il finanziamento soprattutto del bando del Ministero dell'Istruzione con il finanziamento della realizzazione di nuove infrastrutture adibite a scuola verrà realizzato quello che sarà il nuovo intervento di demolizione e ricostruzione della scuola Cesalpino. La nuova scuola media Cesalpino sorgerà così esattamente dove era, al posto della vecchia struttura ormai inutilizzata da 4 anni. Il Comune di Arezzo ha infatti ottenuto un finanziamento per il progetto da 6 milioni ed 800 mila euro. Intervento molto oneroso che sarà finanziato completamente dal Ministero e questo percorso nasce da lontano perché una volta insediato ho fatto far fare agli uffici una valutazione su quello che era lo stato attuale degli immobili scolastici. Quello che evidenziava maggiori criticità è proprio questo che abbiamo alle nostre spalle. La città avrà una scuola moderna e all'avanguardia edificata nel rispetto delle normative più recenti in tema di sostenibilità, efficienza energetica, antisismica e sicurezza generale. Avrà anche un auditorium, ricordiamoci che questo è un polo importante quindi potrà essere anche attrattivo rispetto a quelli che sono i poli circostanti e quindi ascoltando anche quelli che sono stati i suggerimenti degli insegnanti abbiamo cercato di dare un'idea progettuale al Ministero che rispettasse tutti quelli che sono i crismi chiaramente della nuova realizzazione proiettata a quello che sarà il domani di questa scuola. La nuova scuola media Cesalpino sarà dotata di superfici per aule e spazi comuni più ampi che consentiranno di accogliere un numero maggiore di studenti dai 400 del vecchio edificio ai 570 del progetto attuale. Passeremo da 5 a 7 sezioni quindi avremo ancora più spazi proprio anche in termini proprio di aule ma anche proprio di offerta formativa e quindi questa è una doppia risposta perché riusciamo a dare un servizio che riguarda l'insegnamento scolastico e dall'altra parte anche una nuova scuola, un nuovo immobile sappiamo bene quanto i ragazzi studiano, quanto stanno all'interno di questi immobili e quindi quanto sia importante per loro stare in un ambiente nuovo, in un ambiente confortevole. L'aggiudicazione dei lavori è prevista entro il 20 settembre 2023 con chiusura entro il 2026.